Siamo orgogliosi per aver indotto l'amministrazione comunale a cancellare la gabbella della vergogna e fatto così risparmiare 20.000 euro alla cittadinanza ischitana e ben 10 euro per ogni autoveicolo posseduto dai residenti delle ZTL. Il sindaco Enzo Ferrandino viene meno all'impegno preso con la cittadinanza nel febbraio del 2018 e così anche quest'anno i cittadini sono costretti a pagare la gabbella di 10 euro per avere diritto all'ingresso nelle ZTL di residenza. Che vergogna! L'altro ieri, con queste eloquenti parole, il partito comunista italiano marxista-leninista, guidato dal segretario generale Domenico Savio, titolava il servizio giornalistico video in cui si denunciava che anche quest'anno l'amministrazione comunale in carica pretendeva dai cittadini schitani per ogni singolo autoveicolo o motociclo posseduto il pagamento della gabbella di 10 euro per poter accedere alle zone a traffico limitato di residenza. E questo, nonostante nel febbraio 2018, a seguito delle vibrate proteste del PCML, nel corso del filo diretto che tenne con la cittadinanza sul suo profilo Facebook, il sindaco Enzo Ferrandino promise ai cittadini che la 10 euro non sarebbe stata più richiesta annualmente, ma solo la prima volta che avrebbero richiesto il lasciapassare per la ZTL. La promessa fatta dal sindaco Ferrandino però non è stata mantenuta e così a tutti i cittadini che si erano recati in questi giorni presso gli uffici competenti a chiedere il rinnovo del permesso per accedere alle ZTL di residenza era stata chiesta la 10 euro. Un sindaco che volesse dare almeno una parvenza di serietà all'impegno preso un anno fa con la cittadinanza, abbiamo affermato a chiusura del video denuncia dell'altro ieri, dopo questo nostro servizio giornalistico si attiverebbe immediatamente per deliberare l'annullamento di questa odiosa gabbella, rimborsando i cittadini che in questi giorni l'hanno pagata. Lo farà, staremo a vedere, dicemmo. Ebbene, a dimostrazione che quella del PCML rappresenta una vittoria su tutto il fronte, quasi per incanto, a 48 ore di distanza dal nostro servizio giornalistico, finalmente il primo cittadino si è deciso a mettere fine al pagamento della gabbella della vergogna e, soprattutto, a disporre il rimborso delle 10 euro a tutti coloro che in questi giorni l'avevano già sborsata. Come i dirigenti del PCML, cioè dell'unica forza politica di opposizione presente nel Paese, nonostante non sieda tra i banchi del Consiglio Comunale, siamo orgogliosi per aver indotto l'amministrazione comunale a cancellare la gabbella della vergogna e, fatto così, risparmiare 20.000 euro alla cittadinanza ischitana e ben 10 euro per ogni autoveicolo posseduto dai residenti delle ZTL.